Un altro importante riconoscimento per l'Ateneo Salernitano con il finanziamento del Ministero, un'importante ricerca in collaborazione con la Sovrintendenza. Sì, ovviamente il discorso del finanziamento è sicuramente utile, ma quello che è ancora più importante è la qualità della rete che abbiamo costruito. Oggi attorno al tavolo abbiamo la Sovrintendenza, abbiamo la nostra Università e abbiamo avuto la capacità di raccogliere questo finanziamento attraverso, diciamo, attingendo ad una misura nazionale, quella dell'Art Bonus, però mettendo attorno al tavolo e riuscendo a recuperare risorse da parte della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e quindi dal MIBACT che in funzione di quel tipo di cofinanziamento ha potuto raddoppiare con ulteriore finanziamento da parte del MIBACT stesso. Noi, il nostro gruppo di archeologi, del DISPAC, ovviamente è a servizio delle istituzioni, a servizio di attività di ricerca e didattica che non può avvenire attraverso dei lavori sul campo. Quella della numismatica greca e romana e quindi della cattedra affidata alla professoressa Cantilena, al collega Bardini, insomma, ha creato all'interno del DISPAC tutta una serie di attività sviluppate insieme a Sovrintendenza. Io devo dire che il nostro Ateneo ha investito molto, diciamo, più in generale su quest'area culturale, avendo grandissimi risultati dal punto di vista sia della ricerca sia della didattica. Penso ovviamente al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, penso al gruppo di archeologia, l'investimento che abbiamo fatto, avendo attivo oggi un corso di laurea triennale, una magistrale, ma anche un profilo del dottorato e anche una scuola di specializzazione. Un'offerta formativa completa che in un territorio come il nostro è un fatto assolutamente naturale, perché è chiaro che questo serve per formare giovani per il recupero, ma anche per la valorizzazione dei nostri tesori, che in parte sono già visibili, ma in gran parte sono ancora nascosti. Allora, ecco, questo è lo spirito di collaborazione che caratterizza il nostro Ateneo, che parte sotto l'attività di ricerca come fattore poi decisivo anche per la formazione delle future generazioni.